E certe volte mi capito di ragionare così perché sono sotto l'effetto delle psicofarmaci che come effetto collaterale danno alla investigazione e al suicidio. E' per questo che vi vengono queste cose brutte e poco edificanti. E' un'altra che vuole stare a legno. E' un'altra che vuole stare a legno. E' brutto vivere senza lavorare a mare. Ti vengono le nevrosi, le fissazioni. Ti viene un po' la voglia neanche di smetterla. Anche perché poi c'è sempre... Che c'è da lui vienire. Come diceva mai, buongiorno, allegria. O come diceva... E' un'altra che mi ricordo più. Un po' buona giornata a tutti. Tante buone cose.